Ciao Davide, buonasera! Ciao Francesca e ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando, mi sentite bene tutti? Perfetto. Fantastico, fantastico. Sono io un comune della cam strano ma non so che cosa sia succedendo quindi non ce lo chiediamo. Naturalmente alle 5.27 col collegamento alle 5.30 mi sono messo a giocare con le impostazioni del microfono e quindi... Ah no vabbè ma non ti preoccupare, ma tanto guarda che anche pur volendo la tecnologia comunque secondo me ogni tanto ci si mette lì pure se non vai a tocchicciare se c'è qualcosa di strano, non lo so perché... Ma questo a me piace, rende il mondo più interessante, un po' meno deterministico e freddo, no? Questa randomness che comunque resta un po' nella tecnologia che alla fine si comporta un po' come magia per quanto... Esatto. Alla fine quando è dato... Sì, mi è stato solo la cam. È un po' così, è un po' così, è anche il bello di questo lavoro, no? Vero, vero. Il bello dell'incognita, il brivido del funzionerà tutto oggi? Chissà. Il problem solving. Esatto. Comunque ringraziamo innanzitutto PR per aver rinnovato l'abbonamento, quindi grazie mille, bentornato. Io vedo che siete collegati però ovviamente in chat fateci sapere se ci vedete, ci sentite, se va tutto bene, insomma. Ecco, aggiornateci nel caso in cui ci dovessero essere problemi. Oggi, come avevamo promesso la scorsa volta, cosa che purtroppo io avevo rimosso dalla mia memoria, ma Davide per fortuna si è ricordato, perché io proprio l'avevo dimenticato, parleremo del bosone di Higgs. Giusto Davide? Assolutamente sì, tra l'altro me l'ero dimenticato pure io, ma capita che nelle ultime settimane dopo, insomma, il decesso di Peter Higgs, che dà il nome a questo bosone, il mio vecchio video di tre anni fa sul meccanismo di Higgs sia tornato a correre come un pazzo. Naturalmente, no, perché YouTube funziona un po' così, quindi l'ho visto, mi è arrivata la notifica, me lo sono ricordato e ti ho scritto nulla di, nulla più di quello. Però vedi, abbiamo avuto questo flash, cioè meglio lo hai avuto tu, perché altrimenti avremmo parlato comunque di un argomento molto interessante che tratteremo comunque sicuramente. Quindi diciamo che oggi parliamo di questo, che è comunque ugualmente interessante, anche perché noi l'altra volta avevamo fatto un piccolo spoilerino, che poi io ho messo nel titolo, dicendo è davvero la particella di Dio, perché il bosone di Higgs è conosciuto così. Però tu ci hai spiegato che in realtà è un nome giornalistico, diciamo. È un nome puramente giornalistico, come dicevamo l'altra volta, e poi entreremo in tutti i dettagli della fisica, cosa sia un bosone, perché abbia il nome di Higgs e tutta sta roba. Assolutamente. Al tempo, adesso così ci diamo un po' di coordinate storiche, Peter Higgs ha proposto il suo meccanismo, che così ci si riferisce insomma alla costruzione fisica che coinvolge questo bosone di Higgs, nel 1962. La particella è stata trovata con degli esperimenti al CERN di Ginevra nel 2012, 13, 13, direi che è stata annunciata nel 2013, che poi è l'anno in cui, magari mi sbaglio, e magari l'annuncio era nel 2012, nel 2013 Higgs ha preso il Nobel, naturalmente sono molto scarso con le date, però passano tanti tanti anni, passano circa 50 anni tra la proposta teorica e il risultato sperimentale, perché serviva una macchina importante per andare a cercare una particella così pesante, tanto più è pesante una particella, tanto più energia ti serve per produrla, perché, lo dicevamo, è uguale mc al quadrato, quindi per produrre una cosa pesante come il bosone di Higgs hai bisogno di un bel acceleratore gigantesco. E quindi la particella era un po' nascosta, un po' introvabile, un po' maledetta, goddam in inglese. Certo, però, da un punto di vista giornalistico, chiamarla la goddam particle, soprattutto negli anni 60, 70, quando la rivoluzione... Poi pagano le tradizioni... ...è stato scotto, hai capito? Tutte queste robe qua si è fatto god particle per renderla un po' più appetibile al pubblico e quel nome si è appiccicato. Però ho visto che tanta gente si è anche inalberata su questo god particle, almeno nei miei messaggi privati, ovvero col fatto che god particle venga tradotta come particella di Dio, che dovrebbe essere in senso il progetto gods, particle, e non con particella Dio, ma è tipico droppare il genitivo sassone in inglese, quindi no, è semplice, è particella di Dio e in ogni caso è un nome giornalistico. Inoltre, comunque, non è quello, quindi... Lasciamo Dio fuori, interessantissimo, ma lo lasciamo fuori da questa chiacchierata per oggi. Assolutamente, sì, sì. Infatti io comincerei appunto da questo. Ovviamente, ragazzi e ragazze, se nel tempo, durante la live, avete domande, cose da chiedere in relazione a quello che Davide ci dirà, voi non esitate e quindi, ovviamente, poi io le leggerò a Davide, ovviamente attinenti al tema di oggi, come sempre, perché poi voi partite a chiedere cose a Davide, giustamente, per saperne di più di altre cose, però ecco, direi di iniziare da qui, quindi... Sì, se vuoi, rispetto a tutto questo, un giorno faremo una live Q&A, così non ci dobbiamo neanche preparare un argomento. No, no, volentieri, certo. Quindi, via così. Io non so se la farei, la... No, è vero, come ne ho fatte una di tre ore, l'altro gioco comunque adesso non entriamo nei dettagli. Mamma mia. Il bosone di Higgs, una particella. Quindi stiamo parlando di fisica delle particelle. Io potrei lanciarmi nella descrizione delle proprietà e delle funzioni, da un punto di vista teorico, del bosone di Higgs, ma mi sembrerebbe un discorso un po' monco, perché prima di tutta questa roba qua ci vuole un po' di contesto, naturalmente. Dobbiamo parlare di fisica delle particelle e capire davvero di cosa si tratti. Ora, noi abbiamo messo sul tavolo la teoria della relatività speciale. Abbiamo messo sul tavolo la meccanica quantistica, ok? La meccanica quantistica arriva un po' di anni dopo la relatività speciale, ha una gestazione molto più lunga, se vogliamo, raggiunge la sua forma compiuta a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30, più nei secondi, tra l'altro, mentre la relatività speciale era stata pubblicata nel 1905. Nel momento in cui la meccanica quantistica viene pubblicata è già in parte una teoria monca, diciamo viene messa in ordine già in parte una teoria monca, perché noi sappiamo che lo spazio-tempo non è quello di Newton, ma è quello di Einstein, quantomeno della relatività speciale. Oggi ci dimentichiamo completamente della relatività generale, non ci interessa, stiamo solo su il primo passetto della relatività speciale. Quando dicevo la meccanica quantistica viene messa in ordine, la nozione di spazio e la nozione di tempo dentro la teoria sono quelle di Newton, sono quelle che precedono la relatività speciale, quindi richiede un aggiornamento. Si apre il grande problema, che poi attalaglia i fisici per un bel po' d'anni, di unificare la meccanica quantistica e la relatività speciale. Questa è una cosa che in passato ogni tanto ci siamo detti, ma che è bene rinfrescare. Ora, ci sono dei tentativi, il lavoro seminale di Dirac o Dirac, che dir si voglia, alcuni mezzi falliti, alcuni che ci rendiamo conto oggi avere qualcosa di buono ma di incompleto, però la faccenda è complicata. Certo è che nel frattempo la meccanica quantistica permette di capire un po' meglio gli esperimenti che si fanno in laboratorio. Inizia ad accumularsi dell'evidenza, francamente anche da prima, ma poi la meccanica quantistica aiuta a metterla in ordine, sull'esistenza di degli oggetti che chiamiamo particelle elementari, delle cose più piccole degli atomi. La parola atomo viene coniata nell'antica Grecia da Leucippo e Democrito, coppie in realtà poi non sono i primi a parlare di atomo nella storia, c'è chi lo faceva prima in India e c'è chi l'ha fatto poi in India in maniera più sviluppata, però diciamo che la parola viene da lì. Ci dice semplicemente che ci stiamo riferendo a un oggetto che non ha parti. Un libro ha i tomi, le sue parti, un atomo con l'alfa privativa, un oggetto che non ha parti. Ok, questo credo sia noto. Ora, nel 1800 Dalton è la persona che ritira fuori la parola atomo per riferirsi alle componenti microscopiche dell'acqua che era in grado di separare facendola bollire, insomma idrogeno e ossigeno, sarà fatta di atomi di queste due sostanze. L'idea che gli atomi fossero effettivamente atomi però dura meno di un secolo o circa un secolo, perché poi arrivano le prime evidenze dell'esistenza, ad esempio degli elettroni, dei neutroni, dei protoni e così via, che sono particelle più piccole degli atomi e che li compongono. Quindi gli atomi si portano a casa il nome per ragioni storiche, ma in realtà ci sono degli oggettini più piccoli. Poi torneremo alla meccanica quantistica e alla relatività speciale, ma è un detour che ci serve per contestualizzare poi quello che è il prodotto della loro unificazione. Le particelle sono oggetti bizzarre. Sono oggetti bizzarre perché a differenza degli atomi di Democrito, che erano eterni, che non potevano essere creati né distrutti, le particelle possono essere create e distrutte. Ok? Possono apparire e scomparire. Banalmente, e sono sicuro di aver menzionato questo esempio in una nostra chiacchierata, ma lo rifaccio, quando noi premiamo l'interruttore, accendiamo la luce, stiamo producendo particelle di luce, stiamo producendo fotoni, che prima non c'erano, non erano nascosti in un cassetto, non c'erano, li stiamo producendo. E dopo un po', che abbiamo spento la luce, la luce sparisce molto rapidamente, in realtà, soprattutto per il nostro occhio umano, i fotoni sono stati assorbiti da qualche parte, si sono persi. Quindi le particelle possono essere create e distrutte. Questa è la prima cosa che dobbiamo spiegare. Il secondo fatto è che, e questo è molto curioso, le particelle sembrano essere divise in famiglie, ci sono gli elettroni, i fotoni, e tutti gli elettroni sembrano essere uguali fra loro. Sembrano avere tutti la stessa massa, sembrano avere tutti la stessa carica elettrica, sembrano avere tutti lo stesso spin, e così via. Insomma, se tu elenchi le proprietà di un elettrone, tutti gli elettroni, al netto della loro energia e della velocità, poi sono tutte proprietà quantistiche, quindi dobbiamo stare un po' attenti, ma sembrano avere le stesse proprietà fondamentali. E se le particelle fossero davvero gli ingredienti fondamentali del mondo, i mattoncini base di cui tutto è composto, e questo sarebbe una bella gatta da pelare. Perché se sono davvero i mattoncini fondamentali, se non si poggiano su niente, se non vengono da nessuna parte, perché diavolo devono esserci delle similitudini tra particelle diverse, o ancora di più, famiglie enormi di particelle tutte uguali tra loro. Se sono gli ingredienti fondamentali, perché non sono banalmente tutte diverse l'una dall'altra? Perché tutti gli elettroni sono identici. Questo sembra un problema strano, perché noi siamo abituati a pensare a questa cosa qui, ma naturalmente è una regolarità che osservi nella natura, e l'idea un po' naif che si parta dalle particelle e da lì si vada in su, sembra incapace di spiegare questo fatto. Sia il fatto che si creino e si distruggono, perché se sono fondamentali, ecco, dove vanno e da dove emergono, quindi è il problema uno. Il problema due è che ci sono queste classi di particelle identiche. Quando noi vediamo un libro, ok, anzi vediamo tre libri identici in una stanza, non supponiamo che quei libri abbiano origini diverse, supponiamo che siano quantomeno copie dello stesso libro, stampati dalla stessa casa editrice, insomma, che condividano una matrice comune, ma vale anche se vediamo tre vasi o se vediamo due gemelli per strada. La prima ipotesi è che condividano i genitori, se stanno passeggiando insieme, non che siano casualmente due oggetti identici che si muovono per il mondo nati nello stesso identico momento, perché sembrano avere la stessa età e casualmente nello stesso posto. Quindi questi sono problemi seri che i fisici devono affrontare, a cui si affianca il problema di unificare meccanica quantistica e relatività. Quindi ne abbiamo tre da risolvere, perché queste particelle sono assolutamente quantistiche, nella loro natura, mostrano tutte, tutto è quantistico, ce lo siamo detti, però io sono quantistico in un senso che si può approssimare alla fisica classica. Una particella è quantistica in una misura che non ti permette questo tipo di approssimazione, devi proprio usare la meccanica quantistica. Negli esperimenti, però, queste particelle tendono anche a muoversi molto velocemente rispetto al sistema del laboratorio, rispetto agli strumenti di misura. Ci siamo detti che le velocità sono sempre relative, no? Non c'è una velocità assoluta, ma molto veloci rispetto a un acceleratore o a uno schermo, o a quello che vuoi. Quindi devi usare sia la meccanica quantistica che la relatività speciale, per descrivere. Non puoi fare a meno di una o dell'altra. Ecco, questo è uno dei casi fortuiti della storia della fisica, perché viene fuori che l'unica maniera per mettere insieme la meccanica quantistica è la relatività speciale, salvando anche un'altra serie di proprietà del mondo, ma proprietà base, 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 tipo una certa nozione di località dove non esistono azioni a distanza strane che tra l'altro sarebbero in tensione con la relatività speciale. Una teoria in cui i rapporti causa-effetto si comportano in modo sensato e le cause non possono mai precedere gli effetti. È una richiesta, poi la fisica moderna fa di tutto, ma almeno a quel livello è una richiesta abbastanza base, no? Se è al ristorante non datemi una sberla quando mi siedo, no? È una teoria del mondo. Gli effetti precedono le cause. Almeno questo, poi, no? Cerchiamo di fare di meglio. E qualcos'altro, che le probabilità si comportino bene, no? Che se tu hai delle probabilità sommino al 100%, no? Se una cosa è probabile 20, 20 e 60, che tu non abbia quattro opzioni che sommano al 120%, anche questa mi sembra una richiesta abbastanza base. Ecco, viene fuori che se tu metti insieme tutta questa roba, più qualche altro dettaglio, la meccanica quantistica e relatività speciale ti viene sostanzialmente un'unica soluzione possibile. Che è quella cosa che chiamiamo teoria quantistica dei campi. Sto andando abbastanza veloce, quindi fermami se in chat c'è un po' di... ci sono rimostranze per questa campi. No, al momento no, però nel caso, ragazzi, io ve lo ricordo ogni tot, scrivete e diteci, insomma, se dobbiamo soffermarci su qualche punto che non è chiaro, eh. Io sono super felice, nel peggiore dei casi spezziamo la puntata in due, non c'è... non c'è problema. Il sergente dice no, no, che è un piacere sentirti, quindi... meraviglioso, meraviglioso. Ora, è il matcha che ho bevuto prima che mi ha attivato tutti i neuroni. Ora, come funziona la teoria quantistica dei campi? Prima di tutto gli oggetti fondamentali non sono particelle. Sono delle cose che chiamiamo campi. Cos'è un campo? È una cosa che incontriamo anche in realtà nella cosiddetta fisica classica. Incontriamo il campo elettromagnetico, ad esempio. Cerchiamo di visualizzare questi oggetti al di là delle loro proprietà specifiche. Esistono ovunque. Questa è la prima proprietà importante dei campi. Sono oggetti diffusi, non localizzati. Esattamente come il campo elettromagnetico esiste ovunque. No? Questa è un'idea che deve passare. Non è che c'è da qualche parte e da qualche parte no. Da qualche parte non ha energia, da qualche parte ha energia e quindi c'è la luce, ma il campo elettromagnetico di per sé permea tutto l'universo. Ok? È ovunque una specie di sostanza in cui nuotiamo. Ok? E di cui siamo pure composti, ma poi ci arriviamo. Se vuoi sono il liquido amniotico del mondo. Usiamo la metafora che vogliamo. Usiamo la metafora perché poi ci nutrono. Mi piace. Questa poi me la segno, la riuso. Non esercitate copyright perché mi piace molto. ora i campi sono queste cose qua. Sono oggetti diffusi ma che di punto in punto possono avere caratteristiche diverse appunto configurazioni specifiche. Il campo elettromagnetico è tale che da qualche parte c'è una luce più o meno intensa, da qualche altra parte la luce è un po' più flebile, da qualche parte c'è proprio buio, quindi in punti diversi ha valori diversi. in questo senso è simile ad esempio alla temperatura in una stanza, no? Se tu vai lì col termometro c'è una temperatura ovunque però se vai lì la temperatura è una, se vai là la temperatura è un'altra, se vai là la temperatura è un'altra ancora. I campi si comportano un po' in questo modo se non che la temperatura è solo un numerino e ovviamente per specificare come è fatto il campo elettromagnetico in un punto hai bisogno di una cosa un po' più complicata, di un vettore, di una roba. però il senso è quello lì. Oggetti diffusi che di punto in punto possono avere certe configurazioni. Ok? Sì. Queste compongono una configurazione generale del campo. Quando diciamo il campo è in un certo stato in una certa configurazione ci riferiamo alla sua configurazione globale complessiva. Ok? Punto per punto. Ora, questi sono gli oggetti fondamentali del mondo. Dei campi quantistici relativistici. Cosa intendiamo per campi quantistici relativistici? Campi, l'abbiamo detto, quantistici che seguono le leggi della meccanica quantistici. Ovvero, possono stare in sovrapposizioni, vale il principio di indeterminazione, se una proprietà di un campo in un punto è precisa, l'altra può esserci l'indeterminazione sull'altra, hai queste cose qua. diventa un po' più complicato perché hai anche rapporti tra proprietà in punti diversi e cose di cose, però qui entriamo in cose un po' più complicate perché ovviamente trattare un oggetto esteso è molto più complicato di una particella perché è come se tu avessi la stessa fisica che avevi per una particella ma in ogni punto dell'universo e quindi i punti sono infiniti, no? Quindi tu devi gestire infiniti come si dice gradi di libertà, infinite variabili nello stesso tempo quindi la matematica è un po' complicata ed è anche la ragione per cui ci ha messo tanto ad arrivarci è niente di più e niente di meno ma lo si può fare, lo si può fare, c'è un level up dell'analisi che si chiama analisi funzionale che ti permette di fare questa cosa. Di solito il percorso è l'analisi 1 che si fa è un po' quella da superiori, lo studio di una funzione in una dimensione cioè che prendi un numero e sputa un numero, ok? poi salti ad analisi in più dimensioni una funzione che mangia 18 numeri e ne sputa 23, ok? Questa è l'analisi la cosa che fai tipicamente nei corsi di analisi 2 poi c'è l'analisi funzionale hai delle funzioni che chiamiamo funzionali che mangiano infiniti numeri e sputano infiniti numeri, ok? E questa è la roba che devi usare per fare teoria quantistica dei campi. Ok. Insomma. Ora, quantistici relativistici quindi soddisfano sia le leggi della meccanica quantistica che quelli della relatività speciale. Cosa significa? Significa ad esempio che se io perturbo un campo banalmente accendo una lampadina modificando il campo elettromagnetico perché sto producendo luce, ok? Quello che fa la lampadina è cedere energia al campo elettromagnetico producendo luce, ok? Spero che ci seguiamo qui. Poi arriviamo ai dettagli su come si perturbi un campo. Ma questa perturbazione, questa modifica, le informazioni su quello che faccio qui al campo elettromagnetico si muovono più piano o alla velocità della luce nel vuoto. Ok? Come ci dice la relatività speciale. Ok. Ok? Vi ricordate? C'è un limite massimo alla velocità con cui si può propagare l'informazione che è la cosiddetta C, la velocità della luce nel vuoto. Ecco, l'informazione nei campi si propaga a C o meno a seconda di che campo stiamo studiando. È come quando lanci un sasso in uno stagno. Lanci un sasso in uno stagno e quelle ondine quelle perturbazioni che si muovono. Ecco, nel campo è uguale e le perturbazioni si muovono con velocità minore o uguale a C per tutti gli osservatori. Ok? Questa è un po' la sostanza della questione. Perché questi campi sono interessanti? Perché prima di tutto sono degli oggetti che soddisfano sia la meccanica quantistica che la relatività. Che non è banale non è banale trovarne uno indipendentemente da come funziona il mondo. Ma la cosa più interessante è che scopri studiando un po' la matematica che questi campi possono essere eccitati o diseccitati. Ora, il campo classico ti permette di avere energie di tutti i tipi onde elettromagnetiche con tutte le frequenze e cose così. Un campo quantistico è a livelli energetici quantizzati tipica ma adesso non entriamo nel dettaglio di questa cosa qua. ti butto qualche buzzword così poi uno si può andare a cercare le cose meglio su Google ma non è fondamentale. Diciamo che ciò di cui ci rendiamo conto è che eccitando i campi un campo specifico ok? Abbiamo un campo quantistico relativistico lo eccitiamo ovvero gli cediamo energia ok? Quindi comunque lo si faccia diciamo che lo facciamo poi capiamo come si fa ma cediamo energia al campo produciamo particelle ci rendiamo conto che le eccitazioni dei campi quantistici relativistici si comportano da particelle hanno tutte le caratteristiche di quelle che chiamiamo particelle ovvero e questo era assolutamente non banale queste particelle ereditano alcune proprietà del campo quindi le proprietà del campo determinano le proprietà delle particelle ribaltiamola no? dall'alto verso il basso quelle che noi chiamavamo particelle e che ci sembravano gli oggetti fondamentali del mondo gli elettroni in realtà i protoni e i neutroni no perché sono fatti d'altro i fotoni appunto i bosoni di Higgs a cui arriveremo fra poco non sono altro che eccitazioni locali dei campi quantistici esattamente come le ondine sono delle eccitazioni di uno stagno le ondine non sono oggetti fondamentali le ondine possono essere create cedendo energia a uno stagno tirando un sasso si poi si sciolgono tu puoi dare o togliere energia a uno stagno lo stagno resta lì lo stagno è l'oggetto fondamentale le ondine sono quasi epifenomeni sono oggetti emergenti che seguono dalla presenza dello stagno e non viceversa le particelle sono una cosa di questo tipo tu ecciti i campi li perturbi queste perturbazioni sono quello che noi chiamiamo particelle sono gli elettroni sono i quark sono i bosoni di Higgs sono se lo troveremo il gravitone e questo è molto interessante perché risponde alle due in realtà le tre domande che ci siamo posti anche i palloncini perché hai fatto due le tre domande che ci eravamo posti prima abbiamo unificato meccanica quantistica e relatività fatto tic abbiamo spiegato o meglio dato almeno un modello teorico che ci permette di descrivere la creazione e la distruzione di particelle ad essere naturale perché vengono da un campo e abbiamo anche spiegato perché tutte le particelle di un certo tipo hanno le stesse identiche proprietà esiste uno ed un unico campo degli elettroni un unico oggetto diffuso ovunque uno solo e tutti i posti dove noi vediamo un elettrone tutti gli elettroni che noi misuriamo tutti gli elettroni che noi sappiamo ad esempio essere parte del nostro corpo sono niente più e niente meno che eccitazioni di uno ed un unico campo dell'elettrone è come se ci fosse un grande stagno e ogni ondina è un elettrone diverso ma sono tutte eccitazioni dello stesso campo ed è proprio perché sono eccitazioni dello stesso campo che hanno le stesse proprietà ok è chiaro abbiamo risolto in un colpo tutti i problemi che avevamo messo sul tavolo e riscritto il linguaggio fondamentale della fisica naturalmente però nel mondo non ci sono solo gli elettroni per fortuna tra l'altro si respingono quindi non sarebbe un mondo interessante nel mondo di campi ce ne sono tanti ci sono o meglio di tipi di particella ce ne sono tanti ecco allora che nel nostro nuovo linguaggio il linguaggio della teoria quantistica relativistica dei ca di solito si riduce a teoria dei campi o teoria quantistica dei campi relativistico si lascia sottointeso per ogni tipo di particella che osserviamo in laboratorio c'è un campo diverso ok e quindi nel nostro mondo adesso non ricordo nemmeno quante sono una ventina di particelle diverse poi abituato a lavorare con modelli che aggiungono particelle non ricordo quante ce ne sono davvero ma non è così importante la ricerca su google adesso non mi metto a contarle viva dio e abbiamo un numero piccolo di particelle che abbiamo osservato e quindi dobbiamo iniziare a pensare al nostro universo come a uno scatolone in cui coesistono una ventina di campi che interagiscono fra loro e questa è la cosa veramente importante i campi non sono indipendenti l'uno dall'altro i campi interagiscono fra loro cosa significa e la nostra teoria poi descrive come interagiscono tra loro questa è la fisica delle particelle questa è la fisica delle particelle tu hai un campo adesso naturalmente non si può parlare di spazio e tempo come come entità separate ok perché abbiamo la relatività speciale c'è lo spazio e tempo ma dal punto di vista di un certo osservatore sì quindi diciamo mettiamoci nel punto di vista di un certo osservatore e ricordiamoci che va tutto detto nel linguaggio della relatività speciale ma facciamo a capirci tu hai i tuoi campi che hanno una certa configurazione nello spazio poi tutto va tradotto nel linguaggio spazio-temporale tu premi play e questi cambiano nel tempo si evolvono e nell'evolversi si influenzano l'uno con l'altro come diciamo noi interagiscono ok non tutti con tutti e non tutti con tutti allo stesso modo ok il compito della fisica delle particelle è capire che campi ci siano capire quali siano le loro proprietà e capire quali siano e come siano fatte le interazioni fra i campi ok ma a seconda di come interagiscono si evolvono nel tempo ecco perché ecco perché tu puoi avere ad esempio un elettrone e un positrone che sono l'elettrone e l'antiparticella dell'elettrone l'antimateria cosiddetta sai quando si dice che la materia e l'antimateria si toccano e liberano energia si appariscono e liberano energia quell'energia è liberata sotto forma di fotoni sotto forma di campo elettromagnetico di luce ad altissime energie ma se il campo dell'elettrone e il campo elettromagnetico non interagissero fra loro questa cosa sarebbe impossibile e invece proprio perché interagiscono tra loro tu puoi avere un certo stato del campo elettromagnetico l'elettrone e il positrone dell'elettrone scusami l'elettrone e il positrone che si avvicinano interagiscono scompaiono e questa energia viene passata al campo elettromagnetico che si eccita e quindi diventa luce ok devi immaginare cose di questo tipo quindi l'energia può passare da un campo all'altro ad esempio in questo caso ok diciamo ottimo se i campi non interagissero non potremmo produrre gli atomi ad esempio gli atomi e ci hanno dentro quark gluoni elettroni e tutte queste cose interagiscono tra loro no il fatto che protoni e quindi in ultima analisi le loro componenti i quark ed elettroni interagiscano l'uno con l'altro discende dal fatto che i loro campi interagiscono l'uno con l'altro e quindi i loro stati eccitati che sono particelle interagiscono le une con le altre iniziamo a intenderci un oggetto ad esempio la carica elettrica la carica elettrica no quando diciamo che un oggetto ha carica elettrica no può essere carico neutro o nullo no un elettrone ha una carica elettrica questa tazza mediamente ecco un oggetto elettricamente neutro non interagisce col campo elettromagnetico ok questo è il punto e quindi i loro campi una particella elettricamente neutra non interagisce significa che viene da un campo che non interagisce col campo elettromagnetico e quindi non lo sente e questa cosa noi la diciamo dicendo che non ha carica elettrica il campo dell'elettrone interagisce col campo elettromagnetico e quindi noi diciamo che l'elettrone ha una carica elettrica definita negativa per motivi storici non c'è nulla in questa cosa qua è chiaro questo questo diciamo lo diremmo questa cornice teorica in cui poi descriviamo tutto assolutamente sì mi sembra anche dalla chat c'era prima una domanda però una non credo che sia con il tema di oggi quindi te la pongo ma in realtà casomai la riprenderemo allora un Red Dead Depression chiede l'equazione di Klein-Gordon e l'equazione di Dirac descrivono le particelle da un punto di vista quantistico sono formulazioni della teoria quantistica dei campi allora in teoria quantistica quella non a tema in teoria quantistica dei campi tu hai un oggetto che si chiama la grangiana questa la grangiana è diciamo è un oggetto matematico adesso te ne mostro una mentre mi facevi la domanda ne ho cercata una da mostrarti e questo oggetto matematico è una specie di libretto di istruzioni in cui mettiamo tutte le informazioni sul mondo che abbiamo che campi ci sono come interagiscono quali sono le loro proprietà quindi se tu guardi la lagrangiana sai tutte le cose che ci siamo detti prima ok è ciò che determina come i campi si evolvono nel tempo interagendo l'uno con l'altro e via così dalla lagrangiana tu puoi derivare delle equazioni che si chiamano equazioni del moto esattamente come quella della meccanica classica che ti dicono come i campi si evolvono nel tempo quelle che tu menzioni l'equazione di Dirac e l'equazione di Klein-Gordon sono equazioni del moto di certi tipi di campi specifici e quindi tu hai dei campi che se lasciati da soli cioè se esistono solo loro si evolvono secondo l'equazione di Klein-Gordon altri che in un universo in cui esistono solo loro si evolvono secondo le o non interagiscono con nessuno si evolvono secondo l'equazione di Dirac poi quando metti altri campi con cui loro interagiscono ovviamente queste equazioni diventano molto più complicate oggi a questo proposito il modello standard della fisica delle particelle che è la nostra teoria di campo più raffinata quella in cui abbiamo infilato tutte le particelle che abbiamo trovato con una loro lagrangiana che ti dice come si evolvono nel tempo e che adesso ho controllato su internet 4 oh vedi sono 17 le particelle del modello standard ha una sua lagrangiana che è se vuoi l'oggetto che descrive come si evolvono tutti i campi che abbiamo visto nel mondo ok e come si interagiscono tra loro e te la mostro se mi permetti di condividere lo schermo posso farlo? sì sì poi io ti aggiungo tranquillamente adesso ti mostro la lagrangiana del modello standard eccolo qui vado non è la formula matematica più semplice in assoluto oh dio questa è una formula questa è una formula questa è la cosiddetta lagrangiana del modello standard dove bella roba ce la si può tatuare sulla schiena sì infatti stavo pensando che l'equazione di Dirac mi ricordo che c'erano tante persone e se la volevano tatuare ma non mi ricordo per quale motivo questo è impossibile serve proprio tutta la schiena questo è impossibile se voi poi una volta arriviamo alla mistificazione sull'equazione di Dirac assolutamente sì sì allora ognuno di questi oggetti è un campo quantistico ognuno di questi oggetti quindi non è che se vedete qua una m una z un h un a non dovete pensarli come numeri dovete pensarli come oggetti con infiniti di gradi di libertà che esistono in tutto l'universo è matematicamente molto complicati quindi c'è anche quella complessità che si aggiunge alla complessità della formula però da un lato è molto complicata si può scrivere in modo molto più compatto però lasciando impliciti tanti termini usando una una lo si può ridurre a due righe ma introducendo dei simboli che fanno diciamo da segnaposto per pezzi di questa formula così le cose sono un po' più esplicite qui dentro ci sono tutti i campi che abbiamo osservato cioè tutte le particelle che abbiamo osservato tutte le loro proprietà e tutte le loro interazioni se da un lato questa formula sembra complicata dall'altro descrive tutto l'universo tranne lo spazio-tempo e la cosiddetta materia oscura che è una cosa e non sappiamo bene cosa sia e si suppone in genere che sia un pezzo extra di questo modello che non sappiamo ancora come scrivere però esclusa la materia che non abbiamo visto quella che abbiamo visto le cose della vita di tutti i giorni tavoli, bicchieri io, te, la luce i muoni i bosò tutte queste robe qua stanno qua dentro penso quindi sì è un casino però una volta che la sai leggere e onestamente basta un corso di sei mesi universitario se sai la teoria quantistica dei campi per essere a tuo agio con questa non è una roba sembra strusa così ma come tutte le come il legalese sembra struso a me una volta che che fai il corso questa cosa non è una cosa da iniziare è una cosa che vedono imparano a usare tutti quelli che fanno una laurea quantomeno in fisica teorica ma in generale in fisica quasi ovunque si fa modello standard anche per gli altri quindi in realtà non è una cosa per cinque iniziati che la per gli eventi esatto se spendi un po' di tempo su questa è saper descrivere più o meno tutto quello che al livello delle partice particellari delle micro componenti di tutto quello che circonda chiedevano il nome perché se la sono persa alcuni che anche io mi è arrivato adesso quindi chiedeva il nome della formula come si chiama? basta cercare modello standard della fisica delle particelle è una cosa che si è sviluppata nel tempo fino agli anni 60 70 e poi insomma vediamo come lo si aggiora ma ci sono varie proposte e questa è la sua lagrangiana che è la formula da lagrange matematico importante che in realtà era italiano lagrangia ma come tanti italiani poi ha trovato fortuna in altri lini e quindi era sepolto al pantheon di Parigi ma la lagrangiana insomma è l'oggetto che ti dà tutte le informazioni sulla teoria ora qua dentro ci sarebbe tanto da dire ci sarebbe tanto da dire ci sarebbe da dire ad esempio che le particelle del mondo sono di due tipi i cosiddetti bosoni da Bose e i cosiddetti fermioni da Fermi e che c'è un teorema che ti dice che esistono questi due tipi di particelle e che alcuni i fotoni sono bosoni e gli elettroni sono fermioni e ogni particella cade in una delle due categorie e ha certe proprietà che dipendono da questo ma oggi non ci interessa fino in fondo quello che ci interessa è che qua dentro ci sono tante H le vedi? sì qua e là eh quell'H sta per Higgs l'H è il segnaposto il simbolo del cosiddetto campo di Higgs il campo di Higgs è un campo bizzarro perché è l'unico del suo genere mentre gli altri si somigliano il campo di Higgs è un campo un po' particolare ha certe caratteristiche adesso di simmetria matematica è un po' bizzarro ma è stato introdotto negli anni 60 Higgs poi ci mette il nome ma il lavoro è collettivo e lo stesso Higgs quasi ironicamente si riferiva al meccanismo di Higgs come meccanismo di otto nomi usava una crocola di otto lettere per riferirsi anche agli altri uno a cui non è mai piaciuto stare sotto i riflettori non ha apprezzato la fama da Nobel è una persona modesta e da qui avremmo dovuto imparare anche umanamente non solo da un punto di vista fisico quello che ci interessa è che il campo di Higgs viene introdotto per risolvere un problema il problema è che le cose attorno a noi ovviamente non posso essere esaustivo in alcun modo in alcun modo se posso permettermi Francesca chi poi vuole andare a prendere c'è un video sul mio canale più tecnico chi vuole le cose tecniche certo anzi se vuoi mettiamo il link in chat va bene poi te lo passo quando abbiamo finito questo discorso che se no mi perdo va benissimo sì sì per le cose più tecniche più no ciccici del modello però per capirci così può essere un buon follow up per chi ha stomaco e voglia di farsi del male c'è un problema ovvero gli oggetti attorno a noi sembrano avere massa ok sembrano avere massa ovvero non sono tutti a massa zero non sono tutti come i fotoni ok però per funzionare per descrivere tutta la fisica che noi osserviamo la nostra teoria ad altissime energie dove ricordiamolo di nuovo altissime energie vuol dire nel mondo piccolo 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 più energia vuol dire scale più piccole meno energia vuol dire scale più grandi quando io dico alte energie quando dico scale microscopiche sto dicendo la stessa cosa quando dico basse energie intendo scale macroscopiche cose grandi basse energie cose grandi alte energie cose piccole ok? Ricordiamocelo sempre con le solite euristiche per studiare cose più piccole serve un acceleratore di particelle con più energia ok? Questo è un po' il gioco non tanto più di così quindi nel mondo micro 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 per far funzionare le cose le particelle del modello standard non hanno una massa devono essere tutte a massa zero cioè se tu vai ad altissime energie se io chiudo questa stanza e ci metto un botto di energia a un certo punto mi trovo solo con particelle a massa zero gli elettroni, tutti perdono la loro massa tutti sono come i fotoni tutti si muovono alla velocità della luce nel vuoto se siamo nel vuoto tra l'altro l'universo primordiale era così nell'universo primordiale, subito dopo il cosiddetto big bang tutte le particelle non avevano massa ok e tu dici se la teoria mi dice ste robe è un po' un problema perché le particelle sembrano avere una massa quelle che noi osserviamo almeno alcune e allora puoi provare a fare una cosa la cosa più naturale di tutte puoi dentro questa lagrangiana provare a inserire a mano il fatto che abbiano una massa che è la cosa più naturale lì ci metti tutte le informazioni sui campi ci mettiamo il fatto che le nostre particelle hanno una massa è una proprietà dei campi da cui discende il fatto che le particelle abbiano una massa ok e se tu fai sta cosa qua salta tutto non funziona più niente in particolare rompi delle simmetrie della teoria ok questo è il punto chiave la teoria adesso non possiamo entrare magari poi facciamo una puntata dedicata alle simmetrie però questo è il cuore del meccanismo di Higgs la teoria ha certe simmetrie esattamente come una tazza può essere è simmetrica verdi no qua c'è un asse di simmetrie uguale di qua e di là la nostra teoria ha delle simmetrie ok nel senso che possiamo trasformarla in alcuni modi modificando i campi scambiandoli tra loro e otteniamo la stessa cosa ok adesso non è così importante cosa si faccia l'importante è che ha delle simmetrie e noi scopriamo che le deve avere per far funzionare le cose ma se noi infiliamo una massa a mano quelle simmetrie non ci sono più le stiamo rompendo esattamente come se scheggiamo questa tazza improvvisamente questo lato e questo lato non sono più identici ok l'effetto di aggiungere la massa a mano nel modo più normale possibile per ragioni matematiche rompe le simmetrie delle nostre teorie e noi di queste simmetrie abbiamo bisogno per spiegare tutto quello che osserviamo quindi abbiamo bisogno che ad alte energie le simmetrie ci siano e che a basse energie ci siano le masse che però richiedono che le simmetrie non ci siano però le alte energie ne abbiamo bisogno ok come si risolve questo problema come possiamo andare da alte energie con un sacco di simmetrie a basse energie senza simmetrie quindi alte energie simmetrie senza massa massa zero massa zero massa zero ha basse energie alcune particelle non tutte ovviamente i fotoni non hanno massa ma ha una situazione a basse energie in cui le simmetrie non ci sono o alcune delle simmetrie non ci sono non tutte non tutte alcune delle simmetrie vengono rotte in qualche modo e e alcune particelle acquisiscono una massa rompendo queste simmetrie il meccanismo di Higgs risolve questo problema qua ecco vedi tu hai un campo che si chiama campo di Higgs che interagisce in alcuni modi con le altre particelle ok e tu osservi che ad alte energie non succede niente di particolarmente strano ma scendendo ad energie più basse il campo di Higgs cambia cambia la sua configurazione cambia le sue proprietà adesso ti do delle metafore così le rendiamo più digeribili anche per lì il campo di Higgs cambiando rompe le simmetrie ma lo fa in modo spontaneo ti faccio un esempio chiave di un fenomeno più semplice l'acqua se tu ti muovi l'acqua l'acqua sembra avere simmetrie da tutte le parti è tutto uguale ok se tu ti muovi se tu abbassi l'energia e ti trovi nel ghiaccio ok il ghiaccio ha una struttura cristallina certo e quindi non è più simmetrico come l'acqua tu puoi essere orientato in un modo o nell'altro rispetto ai cristalli e riesci a distinguere le direzioni perché sai come sei rispetto al cristallo che ti è vicino sì e quindi girarti attorno a te non è più una simmetria riesci a distinguere le varie direzioni mentre nell'acqua non riuscivi e quindi hai rotto delle simmetrie andando dall'acqua ok è una metafora un po' tirata per i capelli ma è per intendo no però fa capire quello che stavi dicendo esatto il campo di Higgs fa una cosa di questo tipo il campo di Higgs passa da una configurazione che preserva le simmetrie andando giù ad energie a una configurazione che la abbassa ok ti faccio un altro esempio per capirci fammi fare un disegnino qua così è più facile immaginiamo una collina con una pallina in cima alla collina e poi chiudiamo una pallina vuoi che chiudo questa intanto di formula? sì va bene va benissimo va benissimo la prossima ok una collina con una pallina in cima alla collina sì ora diciamo che questa pallina è piena di energia che puoi immaginare come delle spinte che la tengono verso l'alto piena di energia schizza in cima alla collina ok questa situazione è verticalmente se la disegni bene simmetrica se la specchi è uguale a se stessa no? ci intendiamo? ecco se tu abbassi l'energia della pallina e lei non riesce più a stare in cima alla collina a quel punto o scivola di qua o scivola di qua o scivola di là in entrambi casi il sistema non è più simmetrico perché a questo punto la pallina non è più in centro non puoi più specchiare il sistema è o a destra o a sinistra il campo di Higgs fa la stessa cosa ok ah quando sei ad alte energie c'è uno stato a minima energia del campo di Higgs che preserva le simmetrie perché i campi a meno che tu non li ecci ti stanno al minimo della loro energia stanno tranquilli aspettando che tu dia loro un po' di energia quando scendi ha tante opzioni diverse prima ne avevo uno solo poi ne ha tante diverse esattamente come la pallina che passa da una opzione a due opzioni e a seconda di quale scegli tu rompi la simmetria la rompi nello stesso modo rompendo queste simmetrie produci masse per alcune delle tue particelle questo meccanismo che abbiamo riassunto molto velocemente è la cosiddetta rottura spontanea di simmetria SSB spontaneous symmetry breaking di fondamentale importanza nella fisica della materia succede in alcuni casi in fisica della materia e nella fisica delle particelle perché c'è il meccanismo di Higgs e ci permette di dare massa alle particelle a basse energie pur avendo ad alte energie un sacco di simmetrie e particelle senza massa quindi attenzione non è che tutte le simmetrie si rompono non è che tutte le tra l'altro sono simmetrie particolari locali si dicono simmetrie sono simmetrie un po' strane perché si applicano punto per punto mentre la tazza è una riflessione o una palla una palla la giri tutta queste sono simmetrie dei campi che puoi applicare in ogni punto cioè è come se tu facessi una rotazione in ogni punto in modo diverso a volte si chiamano ridondanze di gauge e questi sono dettagli anche un po' filosofici che a me interessano molto ma rischiano di annoiare l'audience e magari le posticipiamo a una puntata dedicata alle simmetrie in cui poi distinguiamo simmetrie globali e locali è tutto un gioco interessante la cosa che ci interessa però è che alcune di queste si rompono e produciamo delle masse per alcune particelle quelle che ci servono e questo è quello che fa il meccanismo di Higgs e quando siamo in questa configurazione a bassa energia in cui le simmetrie si sono rotte il campo di Higgs che aveva tanti gradi di libertà tanti modi in cui poteva essere citato ne perde alcuni che servono per dare massa alle particelle perché hai sempre questa conservazione vanno di qua o di là quello che ti avanza e che puoi eccitare è il bosone di Higgs quindi il bosone di Higgs è l'eccitazione particella di quello che resta del campo di Higgs dopo che scendendo delle energie lui rompe le simmetrie dando massa a un po' di particelle ok è chiaro? si si ottimo anche perché le domande che c'erano in chat in realtà ho letto in entrambi i casi che hanno scritto subito dopo ha ok ha risposto quindi si vede che già hai risposto esponendo no l'unica cosa che diceva Enzuan perdono quindi le simmetrie sono quelle cose che come le guardi le guardi sono uguali? precisamente le simmetrie sono quelle cose sono trasformazioni adesso te lo dico formale ma facciamo per capirci tu hai un sistema fisico qualunque esso sia che sia teoria quantistica dei campi fisica classica non importa in questo sistema fisico ci sono delle cose che puoi osservare delle cose che puoi misurare ok se tu hai una trasformazione del tuo sistema fisico che sia una rotazione una traslazione una una riflessione una cosa più complicata che anche se applicata non cambia in alcun modo le cose che osservi quindi i numerini che misuri allora quella è una simmetria ok una trasformazione tale che il suo essere applicato o meno non sia distinguibile con gli esperimenti ok ok quella è una simmetria perché in fisica alla fine conta gli esperimenti da un punto di vista pratico è una modifica matematica della Lagrangiana ok è cambiare dei pezzi senza cambiare gli esperimenti quanto tu puoi modificare la Lagrangiana tanto più tu puoi modificare la tua Lagrangiana in vari modi senza cambiare le predizioni sperimentali tanto più la tua teoria è simmetrica ok questo è niente più niente meno di questo poi c'è Akim che chiede una volta che pende da una parte credo che si riferisca all'esempio della pallina può tornare indietro se una volta rotta la simmetria otteniamo massa può la stessa particella tornare indietro e non dare massa bisogna rimettere rinfilare un po' di energia serve salire di energia serve andare in una condizione ad alta energia lo dicevo prima lo anticipavo la storia del nostro universo ha visto accadere questa cosa qui in un universo ad altissima energia dove questa rottura spontanea di simmetria non era ancora avvenuta e quindi alcune non avevano preso massa a un certo punto con l'espansione l'universo ha perso energia in un certo senso si è raffreddato si è rilassato e quindi siamo arrivati a un'energia soglia sotto la quale avviene questa rottura spontanea di simmetria che è un po' come una transizione di fase da solido a liquido da ghiaccio a liquido quello che volete da gas a liquido quelle robe lì e dopo quel momento il campo di Higgs è andato nella configurazione con un condensato tutte queste parole un po' particolari e siamo andati in una configurazione con meno simmetrie meno anche lì ridondanze di gauge una cosa un po' più complicata e particelle che hanno massa il la cosa interessante è che se tu fai degli esperimenti con energia abbastanza alta come quelli che facciamo negli acceleratori puoi esplorare cosa succede sopra quell'energia dove le simmetrie non sono rotte quindi dov'è la pallina in alto nel disegno di prima esatto ti servono degli acceleratori e quello fa il CERN ci permette di accedere a delle energie più alte dove la fisica è diversa dove la fisica cambia ad esempio per varie ragioni tra cui il fatto che tu possa avere un ripristino di queste simmetrie certo è una delle ragioni per cui diciamo che il CERN ci permette di guardare la fisica dopo il Big Bang l'universo primordiale queste cose qui bellissimo non so è stato chiaro abbiamo onorato la memoria di Peter Higgs sì sì assolutamente cioè penso assolutamente sì poi vabbè c'è chi sta ormai in un trip mentale dall'inizio della live dicono no vabbè fuori di testa queste cose così e poi dottor Felix ti dice credi che esista il gravitone anche se non è stato scoperto onestamente allora cos'è il gravitone te lo faccio super veloce perché so che poi dobbiamo andare abbiamo ancora 5 minuti quindi vai fantastico ah ok scuse perché hai lanciato il timer io vedo il timer della live che è quasi a un'ora ma effettivamente è 25 sì c'è ragione è vero perché l'ho fatto a partire 25 allora qual è l'idea del gravitone con tutto quello che ci siamo detti noi sappiamo che la relatività generale ci dice che lo spazio-tempo è un campo come gli altri ok lo spazio-tempo è un campo anche lo spazio-tempo perché interagisce con le cose dove c'è energia si deforma il tempo va più piano lo spazio si idea tutte ste robe che ci siamo già detti questo significa che noi quantizzando lo spazio-tempo cioè ottenendo una teoria quantistica dello spazio-tempo come per tutte le altre teorie quantistiche di tutti gli altri campi ci aspettiamo una particella esattamente come quantizzando il campo avendo una teoria quantistica del campo elettromagnetico hai il fotone avendo una teoria quantistica del campo gravitazionale o dello spazio-tempo sinonimo hai il gravitone è la stessa cosa quindi non avere il gravitone almeno in certi limiti quando il campo gravitazionale è debole sarebbe una cosa che sconvolge tutto quello che tutto è possibile finché non lo vedi però diciamo che io credo che non ci sia nessuno che scommette sul fatto che non ci sia un gravitone perché magari non quando il campo gravitazionale è superforte magari cambiano le cose però almeno quando il campo gravitazionale è debole e un po' quantistico ti aspetti che un gravitone ci sia tra l'altro abbiamo visto le onde gravitazionali che sono la versione classica se volete del gravitone come le onde elettromagnetiche sono la versione classica del fotone e mostrano le proprietà che mostrano le proprietà delle proprietà consistenti con le proprietà che ci aspettiamo dal gravitone no? si muovono la velocità della luce hanno spin 2 quindi il gravitone non ha massa è spin 2 questo ci si aspetta questo abbiamo visto in laboratorio per ora poi magari le cose cambiano e scopriamo che hanno massa piccolissima quindi però ecco ad oggi si ci aspettiamo il gravitone ti mando il link del video sul bosone di Higgs bravo perché io ho mandato solo quello del tuo canale e invece così almeno andiamo lo mando qua su streamyard si si va benissimo ottimo super così giro subito il chat eccolo qui il video che dicevamo prima ragazzi così almeno perché prima vi ho mandato quello io l'ho aperto scusate vi ho mandato prima il link del canale così vi potete iscrivere mi raccomando meraviglioso è un video di tre anni fa siamo nell'estate del 2021 quindi questo c'era già questo no vuoi farlo dire un po' hai tatuaggi tatuaggi eh ma le ho visti però prima te lo volevo chiedere però non ti volevo interrompere questa c'era è bellissima ma questo la freccia no sono bellissimi grazie grazie sono come stile sì la parte quella colorata sì 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 è un po' un po' un po' adattato è un artista di Udine che si chiama Luca Braidotti ormai mi sta tatuando lui e continuerà a tatuarmi lui bellissimi sì grazie grazie poi li uso anche negli spettacoli il tempo che va come una freccia come un cerco uno o sia giusto giusto ci sta ci sta sicuramente sono cioè io c'è uno proprio da nerd cosa hai e ho l'albero di Gondor del signore degli anelli è bellissimo dove però senza i palantini quindi senza le stelline intorno solo l'albero come sulla schiena l'avrai qua dietro sì no è piccolino ma non è grandissimo però sì sta dietro al collo bello molto molto bello eh lo so top tatuaggio lo so grazie ormai ho dieci anni quest'anno fa dieci anni però ecco come quelli di Davide colorati così mi piacciono tantissimo neanche uno che andrà sulla schiena mio e di mio fratello insomma bello noi che camminiamo di spalle ce l'ho io ce l'ha lui quel colore invertì tutto un gioco ah ma figo quindi proprio identico sì sì identico ma con i colori scabbiati no perché questo non credo caschi sotto il cappello del meccanismo di Higgs però insomma facciamo un po' di gossip però in chiusura in chiusura ci stava dai bene 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 infatti vi ricordiamo ovviamente oltre ad andare a seguire Davide su Youtube ma anche su in vari social Instagram giusto Davide tanto mi trovate cioè io ormai anche su LinkedIn sto facendo l'adulto e postando bravo io quello continuo ad ignorarlo invece sbaglio e mi dicono che funziona quindi vediamo è un esperimento bene bene e quindi poi noi ci rivediamo con Davide tra tre martedì perché appunto ci sarà poi la prossima credo ci sia la rubrica economica poi quella giuridica e poi torna di nuovo Davide e quindi grazie per averci seguiti ovviamente vi ricordo che tra pochissimo inizierà Ivan su Youtube e ci dovrebbe essere un ospite in collegamento dall'Ucraina e il generale Capitini quindi andate a vederlo grazie mille Davide anche per la puntata di oggi veramente sempre illuminante grazie grazie a te per organizzare questo salotto farci queste chiacchiere sempre super super piacere insomma ma figurati super piacere anche per me quindi vi mandiamo un abbraccio poi non so se per domani aggiornatevi con Ivan perché io non ci sarò perché è festa quindi andiamo a festeggiare sotto al diluvio e niente un abbraccio a tutti buona serata ciao 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 ragazzi grazie a tutti